Al Cessi La Bagnagna siamo con una famiglia che ha fatto la storia di questo concorso con le tante vittorie di Emilio Qua si è laureato anche con Capitol d'Argon, campione italiano Ma noi siamo con tutta la famiglia perché abbiamo un nonno molto felice che ci deve dire qualcosa Perché oltre al campionato d'Italia vinto qualche anno fa con Capitol d'Argon da Emilio Bicocchi C'è un altro campione italiano in famiglia che si chiama proprio Giuseppe Giuseppe come me ha vinto il campionato Under 12 di Vela a Bari quest'anno E quindi è avviata un'altra carriera speriamo luminosa come quella del padre Benissimo e tra un po' lo sentiremo tra l'altro due sport veramente d'elita E allora sentiamo prima il gran finale con il piccolo Giuseppe Questo concorso inizia con un meraviglioso sole e con grandi speranze per Emilio che come dicevo Hai fatto la storia di questo concorso Ti ringrazio, la storia è un nome grosso, è un concorso a cui ci tengo molto Normalmente sono sempre andato bene, ho vinto dei gran premi, ho vinto i campionati italiani È un concorso splendido vicino a casa dove la famiglia Rifeser lo organizza nel migliore dei modi E ci tengo sempre tanto a essere qua presente Beh, io direi subito di parlare della grande sorpresa di questa stagione Il campione d'Italia di Vela, Giuseppe Bicocchi Ma cosa è successo? Io ho visto la premiazione, è stata splendida, fantastica Sì, è vero, è andata molto bene Ma ora bisogna affrontare i mondiali Quindi vuoi battere sulla distanza ogni traguardo riuscito a tuo pa? Sì Nell'equitazione, ovviamente nella vela Beh, noi non sappiamo dire altro che in bocca al lupo, come si dice nella vela? In bocca al lupo anche lì? Sì, va bene Grazie a Giuseppe Senior, Emilio e Giuseppe Junior, campione italiano di Vela Grazie